Un atto d'accusa contro la sanità nissena, una dura reprimenda nei confronti del direttore generale dell'azienda ospedaliera Alessandro Caltagirone, al quale abbiamo chiesto una replica che ci ha risposto picche. La consapevolezza che il Policlinico sarà difficile da realizzare, la certezza di aver smontato un accordo pre-elettorale su Enna. Queste e molte altre le tematiche uscite fuori dall'Assemblea Cittadina sul Policlinico, organizzata da Sergio Cirlinci e Rita Capraro. Al Teatro Regina Margherita, la città con i suoi limiti piccolo-borghesi di chi non prende mai posizione e guarda da dietro le tapparelle, ha risposto. La platea quasi piena di associazioni, liberi cittadini, presenti. Assente invece la politica di centrodestra. Presente il Movimento 5 Stelle dai deputati nazionali a scendere. Con il sottosegretario Giancarlo Cancelleri che ha arringato più da comizio elettorale che da confronto dove erano necessarie risposte a ciò che si era ascoltato. Unici esponenti dell'opposizione, Annelisa Petitto del Partito Democratico e tutti i petrantoni di Fratelli d'Italia. C'è stato poi un tutt'assenti. I deputati, i vertici dell'Aspi, il direttore generale, oggetto di critiche nella gestione dell'azienda, dai cittadini e non solo. Infatti sono saliti sul palco anche due medici che hanno chiesto la riapertura di alcuni reparti come la pneumologia e hanno parlato di come il policlinico si costruisce se l'offerta sanitaria è appetibile. Le lunghe attese dei cittadini in ospedale e di loro diritti negati. È la direzione generale che non muove un dito. Ha raccontato l'esegesi della scoperta della vicenda riguardante il policlinico Anna Roberto Gambino, consapevole del fatto che sarà difficile da realizzare e che l'idea della fondazione non è percorribile. Stessa cosa che ha detto Unuccio Di Paola, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. Duro, durissimo l'attacco di Annelisa Petitto che ha parlato di un riscatto per la dignità della città. I temi della sanità, cavallo di battaglia della sua consigliatura sin dall'inizio. Ha smontato pezzo per pezzo la bozza di progetto di fondazione, dimostrando che Caltanissetta e la sua ASP non è comunque inserita. I servizi sanitari che non funzionano, questa è la denuncia pubblica della maggior parte degli intervenuti. A conclusione, il sindaco Roberto Gambino ha parlato del depauperamento di personale del Sandelia, così da abbassarlo di livello. Dello spostamento degli infermieri nell'ospedale della provincia, lasciando intendere a mosse preelettorali. Un consuntivo dell'incontro è stato redatto dagli organizzatori e consegnato al presidente del Consiglio Comunale, così da poter essere messo all'ordine del giorno del civico consesso tematico che si terrà giovedì. Grazie a tutti.